Buona giornata, buona giornata amici, ben trovati alla rossegna stampa di Fano TV. Oggi è giovedì 14 dicembre 2023, vediamo subito l'almanacco del giorno, poi passiamo alle previsioni del tempo perché oggi è una giornata un po' uggiosa, brumosa, c'è della nebbiolina, insomma ancora non si vede bene il panorama perché insomma l'atmosfera è densa di umidità. Ma ne parliamo subito dopo aver presentato il santo del giorno. San Giovanni della Croce è un santo spagnolo, visse nel XVI secolo, fu un grande collaboratore di Santa Teresa d'Avila nella fondazione dei Carmelitani Scalzi. Fu un grande mistico San Giovanni animato da una fiamma, una vera propria famma, fiamma d'amore verso Gesù e l'unione con Dio. E' uno dei dottori della Chiesa per quanto riguarda l'ascesi e il misticismo. Ed ora passiamo invece alle previsioni del tempo. Cominciamo subito col dire che il sole questa mattina solgerà alle 7.37 e tramonterà alle 16.26. Comunque la giornata presse a poco è come quella di ieri, spiccata variabilità tra nubi irregolari e aperture con possibilità di locali piovaschi. Questi piovaschi saranno più probabili sul settore meridionale della nostra regione. Sulle coste i venti ispireranno da una direzione di nord e nord-ovest, invece nell'entroterra da ovest e sud-ovest. Il mare è leggermente mosso, le temperature 7 la minima, 12 la massima. Ebbene, ed ora apriamo il giornale sulla pagina di Fano e vediamo l'apertura. Si parla nel Corriere Adriatico delle Terme di Carignano perché c'è una dichiarazione del Vice Sindaco e Assessore all'Urbanistica Cristian Fanesi. Terme di Carignano, il Gruppo Rossi spezzi il silenzio perché altrimenti l'operazione è a rischio. Che cosa è accaduto? È accaduto che se si prolunga ancora la fase di un pass di stallo che la società, che è la proprietà delle Terme, sta osservando, si potrebbe incorrere in tutte quelle complicazioni previste dalla legge regionale dell'urbanistica. E quindi occorrerebbero delle varianti. Al momento no, perché se si osserva il piano regolatore la cosa può procedere più speditamente. Con la legge regionale invece occorre approvare una variante, bisogna tornare in Consiglio Comunale, i tempi si allungano e quindi l'inizio dei lavori sulle Terme di Carignano si prolunga sempre di più. Il vice sindaco ha la nuova proprietà, la questione dei posti letto e la spada di Damolcle della legge regionale. La questione dei posti letto è stata un po' chiarita nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, la seduta monografica appunto sulla sanità da parte dell'assessore regionale Filippo Saltamartini, che ha detto incontrovertibilmente che i posti letto sono di Fano e rimangono a Fano. Ma non ha detto che andranno alle Terme di Carignano, ha detto che andranno all'ospedale Santa Croce e quindi anche qui c'è un problema da risolvere. Sul tema interviene anche l'esponente dell'Udc Stefano Pollegioni, il quale sollecita appunto il gruppo Romani a chiarire i dubbi insomma e a farsi avanti e dopo quanto presentato nel novembre del 2022, insomma, di tornare alla città e dire quello che si sta facendo. Un altro argomento è quello dello sport, che già appare sui giornali da alcuni giorni. Oggi vediamo che c'è ancora la dichiarazione del segretario della Lega, Alessandro Brandoni, il quale critica l'atteggiamento e il prevedimento dell'amministrazione comunale che investe i suoi soldi nel campo sportivo dei militari in Viale Piceno, mentre avrebbe bisogno, secondo appunto Brandoni, più risorse il campo sportivo Mancini. Per il Comune meglio concentrarsi sullo stadio Mancini. Vediamo qui il titolo che appare sul giornale. Tifosi e Lega chiedono chiarimenti sul progetto per l'impianto dei militari. Vedremo appunto se l'amministrazione comunale interverrà su questo tema. Premiati gli angeli della città, la loro vita dedicata agli altri. Si è svolta l'altra sera nel Teatro della Fortuna uno spettacolo molto significativo. L'attribuzione del premio Cuore Comune ai volontari che nel silenzio, nell'anonimato, dedicano la loro vita all'aiuto degli altri. Ebbene sono esponenti significativi. Le domande affluite alla Commissione, che poi doveva fare le selezioni, sono state tantissime. E quindi devo dire che la Commissione non ha avuto un compito facile nel scegliere poi le persone che andavano premiate. Però, insomma, questo è avvenuto. Sono settori significativi quelli su cui si pone l'attenzione. E l'altra sera il Sindaco, con tutti gli esponenti di giunta, ha appunto premiato queste persone. Vediamo, vediamo chi sono. Sono Teresa Nannini, moglie di Italo, cofondatrice dell'Africa Chiama, un'organizzazione che, sappiamo benissimo, si è estesa a livello nazionale, il cui obiettivo è quello di aiutare le popolazioni, aiutare ma non solo le popolazioni africane, in modo particolare quelle più povere, quelle più desideredate, quelle che vivono in stato di crisi. Uno degli esempi più belli fatti dall'Africa Chiama è l'istituzione del centro natalità in Zambia, che dà la possibilità alle donne di non partorire più, con tutti i rischi, nelle loro capanne, nelle loro abitazioni, ma di andare in un ospedale fornito di tutto. Altro premio ad Aurelio Gennari, componente del Cibi Club Enrico Mattei. Aurelio, lo vediamo tutti i giorni, che aiuta famiglie e bambini ad attraversare gli Ale Gramsci per recarsi nelle scuole Corridoni, diventato veramente un beniamino di tutte le famiglie. E poi ancora una giovane araba di religione musulmana, Nadia Ben Assen, che presta servizio come volontaria nell'ufficio pastorale diocesano Migrantes. Il suo scopo, il suo impegno è quello di promuovere la conoscenza del mondo arabo, specie contro gli stereotipi delle donne. E poi ancora Luciano Poggiani. Luciano Poggiani, uno storico ambientalista fanese, fondatore dell'Argonauta, fondatore anche del centro didattico ambientale di Casa Archilei, profondo conoscitore della situazione della fauna e della flora del nostro territorio, ha pubblicato tantissimi libri. È veramente un studioso che dal punto di vista scientifico si è dedicato alla conoscenza del territorio. E poi ancora Mario Boschini e Laura Giancarli, una coppia di educatori che operano nella parrocchia di Ponte Sasso con particolare attenzione ai giovani. Ed infine Gabriele Battistelli, maestro di vita, un allenatore di calcio, un vero e proprio maestro di vita, perché ha la sua passione con lo sport, mette quella dell'insegnamento dei valori che lo sport può insegnare, proporre ai giovani. E poi sono state premiate due associazioni, la GFI di Francesca Busca, che si dedica all'integrazione dei disabili, e l'Avis del presidente Giuseppe Franchini. L'Avis non ha bisogno di presentazioni, perché da oltre 50 anni si dedica, da oltre 50 anni si dedica a salvare le vite umane, donando il sangue, sempre tutto nell'anonimato e nel volontariato. Quindi una bella pagina questa dedicata a coloro che fanno del bene nella nostra città. Giriamo la pagina e passiamo purtroppo alla cronaca, dove vediamo che a Fermignano si è verificato un grave incidente. Schianto contro un'auto in sosta, muore a 80 anni dopo un malore franco-nigro. Un impatto violento nella notte, inutili tentativi di rianimare il conducente, la salva tornerà in Calabria, da dove franco-nigro era originario. Che cosa è accaduto? È accaduto che probabilmente all'origine dell'incidente è stato un malore. Infatti non ci sono tracce di frenata, non ci sono elementi che possono giustificare quanto è avvenuto. A suggerire l'ipotesi di malore, l'assenza di qualsiasi segno di frenata sull'asfalto. Ebbene, Franco Nigro procedeva con la sua auto in direzione Bivio-Borzaga, quando improvvisamente ha invaso la corsia o porta ed è finita con la sua auto una Yaris contro una macchina parcheggiata, una 500 Fiat. Però ai soccorritori, quando sono giunti sul posto, per lui non c'è stato nulla da fare. Quindi veramente un tragico incidente. Brilla una stella cometa gigante. Pensate a San Lazzaro. È lunga 18 metri e larga 6. Veramente è una stella che non si può non notare. Un bellissimo presepe, quello organizzato nella frazione di Fossombrone. Ancora una volta i volontari e gli animatori dell'Associazione Le Marmitte dei Giganti, dopo tanto lavoro, hanno finito la loro opera ed ora veramente questa è un'opera da visitare. Passiamo a Corinaldo, per quanto riguarda la BCC che investe sul territorio e sul futuro. Bravi a scuola, premiati 63 giovani. Anche la BCC di questo territorio, la BCC di Pergola e di Corinaldo, organizza una borsa di studio per tutti i ragazzi che si sono distinti negli studio. Questa è una prassi ormai normale, ma dobbiamo rilevarla anche se è normale, ovviamente, di tutte le BCC che investono nel territorio e affermano sempre più il loro radicamento nel nostro ambito sociale. A Senigallia, a Senigallia, una rapina, una rapina che ha della eccezionalità, perché insomma una coppia passa tranquillamente per strada, arriva uno malvivente alle loro spalle, prende il coltello, lo mette alla gola della donna e dite datemi tutto quello che avete. Questo è quanto è avvenuto. Sciocca al parco, rapinata una coppia, coltello puntato, lei sbattuta a terra, marito e moglie, lui di 78, lei di 68 anni, sono andati al pronto soccorso, il bandito in fuga con la borsa della donna. Insomma, stavo camminando nel passaggio principale del parco di Senigallia, racconta la figlia della donna, che la donna è ancora sotto sciocche, quando ad un tratto l'uomo ha afferrato la donna al collo da dietro e in un primo tempo si pensava ad uno scherzo, insomma qualcuno che era di loro conoscenza e le abbracciasse. In realtà non era uno scherzo, perché subito dopo è arrivata l'espressione datemi tutto quello che avete. Il marito ha cercato di reagire, però insomma l'uomo aveva un'arma e quindi una volta che si è impossessato della borsa si è dato alla fuga e ora viene ricercato attivamente. In bilancio a Senigallia 3 milioni tramunte e parcheggi. Approvato dalla Giunta il bilancio di previsione del 2024-2026 che entro la fine del mese approverà in Consiglio Comunale. Questa è una prassi ormai in tutti i consigli comunali che ormai non approvano più il bilancio preventivo nell'anno in cui il bilancio poi ha i suoi effetti costringendo i primi mesi a ragionare per dodicesimi lo fanno prima in modo da avere tutte le possibilità tutti i soldi a disposizione. Approvato dalla Giunta il bilancio di previsione previsti 2 milioni e 300 mila euro di sanzioni al codice della strada e 1 milione e 350 mila di proventi dai parcheggi. Insomma sono sempre gli automobilisti che finanziano sempre più le casse dei comuni. Bene diamo un'occhiata anche alla pagina di Pesaro dove si parla dell'interquartieri di quest'opera che è in corso di esecuzione traffico la bretella al penultimo miglio ma attenti ai divieti. Per l'interquartieri di Muraglia un'opera veramente molto utile perché poi evita di attraversare la città passando per le vie più trafficate quindi si passa in periferia. Per l'interquartieri di Muraglia siamo ormai al penultimo miglio ma prima di arrivarci bisognerà ancora avere un po' di pazienza almeno chi utilizza la strada per gli spostamenti con i cantieri ancora aperti. Fino al 19 dicembre saranno in vigore una serie di modifiche alla viabilità e al transito dei mezzi. Dal 19 al 22 poi c'è un divieto di transito in un tratto di strada tra Pantano e Castagni e sotto Natale è prevista l'apertura del primo tratto di Bretella quindi si comincerà a vedere qualcosa. E poi abbiamo una critica una critica da parte di Giorgio Mocchi ex sindaco di Piobico ed ex coordinatore straordinario di Fratelli d'Italia il quale critica anzi fa tre critiche tre errori clamorosi secondo Mocchi compiuti dall'amministrazione comunale di Pesaro sono tre progetti chiave che l'amministrazione comunale sta realizzando si tratta del casello dell'A14 un'opera collegata ad altre due che lui stesso poi critica e vediamo che sono il casello dell'autostrada l'ospedale e lo spostamento della questura queste sono l'oggetto delle critiche di Giorgio Mocchi ma ovviamente l'amministrazione comunale procede per i suoi passi ancora un risvolto per quanto riguarda la latitanza di Federico Marcelli l'uomo che era fuggito era evaso dagli arresti domiciliari spezzando il braccialetto che aveva con sé ebbene è stato trovato in un casolare dell'Umbria aveva con sé dei macete e guardate qui nella fotografia che razza di armi bianche portava con sé Federico Marcelli girava con un macete e così era perché ne è stato trovato uno di 31 centimetri nel casolare dove trascorreva la sua latitanza dal 15 novembre e poi ci sono anche risvolti come mai Marcelli si trovava in quel posto sembra che avesse conosciuto la proprietaria della casa una donna brasiliana su Facebook aveva intrattenuto con lei dei rapporti e quindi appena fuggito sapeva benissimo dove indirizzarsi però insomma sappiamo che lì è stato ritrovato e poi abbiamo ancora dei guai giudiziari per Giancarlo Ciaroni per quanto riguarda la detenzione di una guglia del Duomo di Milano si tratta di un drago di un drago alato in marmo di Candiglia che era stato staccato dalla guglia del Duomo di Milano durante la guerra del 43 appare sereno anche se dovrà sostenere un processo anzi ancora deve essere deciso perché si tratta di un'udienza preliminare fissata dalla procura di Milano per domani nella quale il giudice si esprimerà sulla richiesta di rinvio al giudizio quindi insomma il processo ancora non è stato così convocato non è stato ancora messo di fronte a questo imputato vediamo ancora altri titoli che riguardano il Corriere Adriatico di Pesaro PC rubato a scuola un ragazzo assolto poche prove era anche accusato di aver costretto con le minacce un minorenne a rivenderlo una vicenda che si è consumata in ambito scolastico vediamo anche la pagina di Urbino dedicata dedicata al piano d'ambito perché insomma la discarica dell'entroterra fa ancora notizia piano d'ambito dei rifiuti c'è l'ok ma non per tutti il documento passa a maggioranza tra i contrari c'è anche il comune di Montelabate pessimi segnali secondo appunto questo comune il voto favorevole per il piano d'ambito dei rifiuti è stato formalizzato dall'assemblea dell'ata che ha appunto trattato questo tema molto importante che ha generato molte polemiche e molte discussioni il piano prevede il mantenimento fino alla chiusura naturale per quanto riguarda le discariche di Ca Asprete e di Monte Schiantello la discarica di Fano ed ora apriamo invece il resto del Carlino dove vediamo un articolo di apertura dedicata alla sanità ai ritardi diciamo così della sanità territoriale ne parla e perché ne ha subito gli effetti Francesco Giovannelli Francesco Giovannelli era un dirigente capo gabinetto del sindaco ai tempi ai tempi di passati ai tempi insomma di giunte che erano ormai fanno parte della storia è una delle figure che in città tutti tutti conoscono ebbene Giovannelli cosa ha fatto ha dovuto subire gli effetti delle lungaggini della sanità in modo particolare del CUP aveva un problema di pressione però non ha avuto la possibilità di trovare un modo opportuno un modo compatibile per quanto riguarda gli esami a cui doveva essere sottoposto e poi anche trovare un posto per il vaccino anti-covid è stato un'odissea odissea con il CUP impossibile prenotarsi alla fine ho dovuto rivolgermi alle prestazioni private come purtroppo fanno molti quando il pubblico non funziona l'unica possibilità è andare dal privato dove si trova tutto e presto però bisogna pagare vediamo le altre notizie il pesarese Rabacen al carnevale di Fano sarà il sindaco della più importante manifestazione cittadina e c'è chi storce il naso Gian Marioli sovvertire è l'essenza dell'evento Gian Marioli la presidente dell'ente carnevalista dell'ente carnevalesca insomma spiega il perché di questa scelta una scelta un po' particolare insomma che al carnevale di Fano venga eletto sindaco la maschera di Pesaro per buona pace di tutti i campanilisti e di tutti coloro che ancora hanno un senso di rivalità nei confronti di Pesaro che ovviamente è da condannare cinque anni dopo Corinaldo lezione speciale per 900 studenti martedì prossimo i ragazzi delle scuole secondarie si confronteranno a teatro sul divertimento sicuro sarà proiettato anche un docufilm la linea sottile su quanto accaduto quella tragica notte e ovviamente la tragedia di Corinaldo non si dimentica lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi quando il liceo Nolfi a Polloni ha consegnato il diploma al papà e al fratello di Benedetta una delle vittime appunto di questa tragedia Marotta Marotta la rotatoria non è finita ma funziona già l'infrastruttura l'ingresso della città sarà pronta nelle prossime settimane e questa ovviamente è una buona notizia a Durbino a Durbino il sindaco Gambini ha già pronto il nome del suo successore sono disponibile per un eventuale terzo mandato ha detto Gambini in Comune esiste anche un piano per chi potrebbe venire dopo ma è top secret e quindi questa è una notizia non notizia come di solito pubblicano i giornali però lasciando insomma intravedere qualcosa suscitare un dibattito suscitare della curiosità bocche cucite nessuno si sbottona su chi candiderà su chi si candiderà sindaco di Urbino ma la curiosità ovviamente c'è e così le voci e quindi questo articolo non fa altro che mescolare un po' tra il brodo della politica per cercare insomma di suscitare curiosità e poi vediamo qui l'articolo dell'incidente stradale che si è svolto a Ferminiano ex bancario si schianta con l'auto e muore tragedia nella notte l'uomo 80 anni ha invaso la corsia stradale opposta finendo contro una vettura parcheggiata ed era la Fiat 500 vediamo anche le notizie di Pesaro pubblicate dal resto del Carlino lo facciamo rapidamente perché siamo in chiusura ecco qua l'articolo di apertura questa è la prima pagina del resto del Carlino dove la fotonotizia è dedicata al covid vaccini senza prenotarsi sì perché ci sono tre giorni che l'aste di Pesaro ha dedicato a chi si vuole vaccinare senza effettuare le prenotazioni basta recarsi appunto nei punti vicinali nelle date che sono indicate per avere questa prestazione covid e vaccini dopo i troppi ritardi last corre ai rimedi open day nei distretti allora vi dico subito che a Pesaro tutto questo potrà avvenire il 21 dicembre in via Nitti a Fano il 29 in via Togliatti a Urbino il 23 in via Guido da Montefeltro passando per il CUP il primo posto libero è il 22 ma a Macerata Feltria cioè questo per chi vuole passare per il CUP invece per gli altri tre giorni ripeto il 21 dicembre a Pesaro il 29 a Fano il 23 ad Urbino non c'è bisogno di prenotazione ed è consigliabile veramente vaccinarsi per chi ha superato i 60 anni e per tutte le persone che si trovano in stato di fragilità Natale Pesaro al Traino ma se abbiamo creato 70 eventi in piazza l'assessore Franco Illucci replica alle critiche di Ippaso direttore della Confessor Centi non ne viviamo di riflesso dei borghi anzi con loro facciamo energie la città non vive al Traino appunto di tutto quello che accade in provincia ma anzi esercita un ruolo guida dice la Franco Illucci per quanto riguarda il coinvolgimento di tutte le località per dare un Natale ancora più bello e più interessante e poi gli altri articoli li abbiamo già visionati ancora Marcelli per quanto riguarda la fuga e ancora mappa completa delle telecamere patto sicurezza sindaci raccolta un patto che è stato riconfermato in prefettura e questa era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti